Ciao a tutti raga, in questo video vi volevo spiegare come prendere le merendine dei distributori che trovate nei bar e nei supermercati gratuitamente senza inserire un soldo. Allora basta che scegliete la bibita o la merendina che volete e prima però inserite questo codice qua, poi scegliete quello che volete dal distributore e vi verrà gratuito. Insomma questo codice non lo metterò in descrizione quindi copiatelo, copiate. Beh ragazzi per questo video è tutto, se vi è piaciuto, se funziona scrivetelo nei commenti, iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace. Ciao!